Che bello, siamo a Grottaglie, nel grande teatro dell'Istituto San Pio dell'Istituto Servi della Sofferenza in San Giorgio Ionico. Allora, ingegnere, puoi accendere le luci così facciamo una sorpresa per i nostri amici, amici di Facebook vicini e lontani. È enorme, è un teatro enorme di 500 posti. Realizzato in che anno, Don Mino? Credo nel 92. No, il 92 è il centro tutto. Qualche anno dopo il teatro. Come utilizzate questo grande teatro? Ci sono grandi convegni e con la prospettiva che il padre ha nella mente e nel cuore che un giorno sarà un luogo di riferimento. E anche di convegni internazionali, regionali, nazionali. Bellissimo. Ma tutto intorno c'è la giusta ricettività turistica per ospitare il mais, si chiama così nel turismo? Ma sì, per ora poi il Signore provvederà a creare attorno a questo centro le strutture di recettività, alberghi, hotel. Adesso come lo utilizzate? Fate dei video? Fate la proiezione di film? Ci sono delle conferenze, ci sono gli incontri, veramente ora è per così dire un po' sottoutilizzato, però via via che le necessità ci saranno, le opportunità sarà utilizzato al massimo. Per cento. Ingegnere, puoi accendere le luci? Così facciamo vedere bene questo grandissimo... Oh, eccolo! Eccolo in tutto il suo grande splendore. Adesso ve lo faccio vedere bene, eh? Sì, però ora andiamo. Oddio, ora andiamo un attimo, eh? Bellissimo, cioè addirittura le poltrone lì, ma è stupendo. E poi la grande immagine del grande santo, Padre Pio, che per noi resta sempre Padre Pio, il grande santo di Pietrelcina. Vi faccio vedere bene questo grande teatro, siamo a San Giorgio Ionico e il desiderio è che diventi una grande sala convegni per ospitare appunto convegni di carattere internazionale. Madò! È bellissimo! Qui si potrebbero fare delle opere liriche, un attimo che lo faccio vedere bene. Mi sta inseguendo, vuole portarmi via, però io ve lo voglio far vedere bene. Guarda, 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 che bello! Dai, dai, ormai che ci siamo, facciamo vedere, facciamo un bel video. Oddio, è stupendo, guarda, guarda, che scena! Qui opere liriche dobbiamo fare, dai, grande patrimonio italiano dell'umanità. E faccio, lancio un messaggio a mia sorella Rosanna Mancarella, cantante lirica, che ha cantato alla scala. Quindi assolutamente qui ci impegneremo, eh? Se spengono le luci dobbiamo andare via. Ciao! 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 Ciao!